Si riunisce per la prima volta a Bruxelles l'Alleanza Globale per contrastare il traffico di esseri umani. La conferenza internazionale era stata annunciata a metà settembre durante l'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione e vede la partecipazione di 450 delegati provenienti da 57 paesi del mondo. La conferenza internazionale deve essere globale non solo nel senso geografico, ma anche nel suo scopo, a concentrare sulla prevenzione, sulla risposta e sulle alternative legali alle riempie di smuggimento. E questo è il spirito che ci ha aiutato a organizzare questa conferenza. All'indomani della conferenza, anche la notizia dell'abrogazione da parte dell'aggiunta militare del Niger della legge del 2015 che puniva il traffico di migranti nel paese, punto di transito verso la Libia e l'Algeria. L'annuncio è stato dato la sera del 27 novembre del 2023.